Buonasera ragazzi, dopo circa 24 ore dai sorteggi della fase a gironi della Champions League ci troviamo a commentare quello che avevamo accennato ieri nel video e che è stato ribadito oggi in conferenza stampa da Allegri dopo che ieri sera sul Tardi erano arrivate le voci di una rottura totale nel fatto che Cristiano Ronaldo già aveva svuotato l'armadietto alla Continassa e oggi avrebbe salutato i compagni Cristiano Ronaldo non è più un giocatore della Juventus torna al Manchester United quella che è stata la sua casa per sei anni dal 2003 al 2009 prima del suo passaggio al Real Madrid che cosa ne penso? partiamo dal presupposto che la società resta i giocatori passano ma la società resta e questa è la cosa più importante come ha detto anche Allegri oggi in conferenza stampa e che la trovate sempre qui sotto sul canale, sui video dispiace per Cristiano Ronaldo soprattutto per il fatto che abbiamo avuto il giocatore più forte degli ultimi vent'anni insieme al Lionel Messi e siamo stati l'unica big europea nella quale ha giocato il campione portoghese in cui Ronaldo non ha vinto la Champions League e questo è l'unico, se proprio lo vogliamo chiamare così, rimpianto è un dispiacere per rimpiazzarlo si sono fatti diversi nomi anche non all'altezza assolutamente si sono fatti nomi di Raspadori nomi Scamacca con tutto il rispetto per loro ma questi non sono nomi per sostituire Cristiano Ronaldo si è fatto il nome anche di Moise Ken io sarei contento se tornasse Moise Ken ovviamente si dice prenderebbe la 7 di Cristiano Ronaldo e sarebbe lui il numero 1 per sostituirlo anche perché si dice prenderebbe il numero 7 però anche lui non è un nome all'altezza con tutto il rispetto per sostituire Cristiano Ronaldo certo è un buonissimo attaccante ma non l'ideale per sostituire i 30-35 gol a stagione di CR7 però vi dico una cosa vi dico una cosa io ho una sensazione ho la sensazione che il vero colpo in attacco noi dobbiamo prendere comunque qualcuno per quest'anno e molto probabilmente prenderemo come appena finito di dire Moise Ken però ho la sensazione che l'anno prossimo ci sarà il vero colpo in attacco anche perché l'anno prossimo questo giocatore di cui sto per parlarvi avrà una clausola rescissoria di 75 milioni di euro e questo giocatore si chiama Erling Braut Holland attaccante che ormai conoscono tutti punta centrale del Borussia Dortmund siamo stati vicinissimo tanto è così per prenderlo nella sessione invernale del 2019-2020 e che l'anno prossimo si libererebbe a 75 milioni di euro come recita il contratto che l'anno prossimo prevederà l'inserimento di questa clausola quindi la Juventus l'anno prossimo come riportato anche da alcuni giornalisti sarebbe pronta nella prossima sessione estiva di calciomercato a pagare questi 75 milioni di euro e portarsi il norvegese alla corte di Max Allegri qualcuno di voi dirà Raiola le commissioni vorrà 40 milioni di commissioni 50 milioni di commissione con la Juventus ci sono buoni buonissimi rapporti buonissimi rapporti quindi io personalmente non credo che ci sia ci siano problemi ci si metterà sicuramente d'accordo e si troverà la soluzione più giusta per le due parti quindi magari le commissioni andranno a scendere certo ovviamente non 40 50 milioni di commissione ma più basso 15 20 milioni che sia e Holland come stipendio secondo me anche prenderà un 20 25 milioni secondo me anche lui e niente questa è una mia sensazione personale poi magari mi sbaglio mi sbaglio però ho la sensazione che il vero colpo in attacco arriverà a giugno del 2022 con Erling Braut Holland assistito di Mino Raiola questo è il quanto in bocca al lupo a CR7 per la sua nuova avventura per il suo ritorno a casa grazie per questi tre anni in cui ci hai fatto gioire sognare anche se quella maledetta coppa dalle grandi orecchie non è arrivata ti auguro il meglio per il tuo futuro per quello che sarà per quella che sarà la prossima stagione e le prossime stagioni con il Manchester United firmerà un contratto mi sembra biennale fino al 2023 fino al 30 giugno del 2023 e niente questo è il quanto ciao Cristiano in bocca al lupo e ciao ragazzi buona serata grazie a tutti